è un viaggio, rappresenta un viaggio e una ricerca, la ricerca di un uomo che proviene da un altro mondo e questo è solo un indizio, ed è ovviamente disseminato di indizi, addirittura a me parrebbe una specie di enigma per buona parte del testo, ma anche un labirinto, mi sono venuto in mente queste immagini, che ne dici? Sì, sì, mi ritrovo completamente. Allora, sul brano che tu hai scelto faccio notare che la prima riga in realtà è una citazione ma vabbè, ci sono parecchie citazioni qua e là non rivelate, non interessava a mettere note Senza la fonte, però è una citazione da Iliott. Certo, è un percorso disseminato di indizi, ma tu sai benissimo che, secondo Bloom, il grande critico in fondo tutti i romanzi, dice Bloom, si possono ricondurre a due tipologie sostanzialmente l'Odissea e l'Iliade, cioè la situazione dell'assedio e la situazione del percorso e questo mio romanzo appartiene sicuramente al modello del percorso, cioè il modello in cui c'è uno sviluppo di luoghi, di tempi e un inseguimento e in questo senso certamente è anche un po' giallo ecco, io non mi piace tanto il termine applicato al romanzo, io non scrivo libri gialli però certamente c'è anche questo elemento perché c'è una ricerca di un personaggio, di una persona la ricerca degli indizi eccetera. L'enigma, hai assolutamente ragione, l'enigma è una grande figura filosofica, la filosofia nasce, dice Colli, dall'enigma, quindi merita di essere tenuta ben presente. Certo c'è un enigma volutamente presentato come tale e come tutti gli enigmi direi, il senso di ogni enigma a partire da quello di Edipo è la vita, ciò da cui poi dall'enigma dipende un'esistenza, fin dall'origine è così l'enigma, fin da Edipo, ma l'enigma anche nel romanzo e anche in questo ha questo significato, c'è un enigma a partire del quale è in gioco qualcosa, il qualcosa che è in gioco sono le esistenze delle persone, degli esseri umani. Quell'enigma nasconde appunto questo grande tema, questo grande problema, l'esistenza, l'esistenza.